Io non vorrei che, siccome con somma veramente mia di Pasquale e di chi capisce i numeri, questa amministrazione, il sindaco in particolare, viene pure ogni tanto con una dichiarazione che dice che una vecchia amministrazione ha lasciato i comuni in deficit. Io qualche volta in un'intervista ho detto se fosse stato vero quello che sta dicendo il nostro sito, non avrebbe aperto il Tribunale, non avrebbe aperto nemmeno un gabinetto del Tribunale, perché se un comune è dissesto non è in condizione di fare certi sforzi, non so sapendo che, e allora non vorrei che tutto questo fosse un progetto dove io ho sempre detto. Voi dite che stavate in definità, credete di avere risolto il problema come? Raccogliendo i residui attivi dell'amministrazione, vedi quei residui verendi che avevamo presso il ministero, quei 6 milioni di euro, quelli sono delle toppe, però sono movimenti di cassa, non sono movimenti sostanziali, perché oggi non abbiamo più la contabilità finanziaria, non abbiamo più la contabilità economica, costo di gara, entrate e uscite, quelle sono entrate e uscite, sono cose diverse dal costo e dal bilancio. Io ho sempre mandato a dire che il bilancio ha un problema strutturale, qual è il problema strutturale del bilancio? L'acqua che non si incassa, attenzione, problema strutturale che probabilmente siccome noi nel 10 anni non abbiamo aumentato di una vita le tasse comunali, ovviamente lui non poteva vedere arrivare e aumentare di mezzo soldi, non le ha aumentate, però è arrivato il momento appena di rimare qualcosa per portare qualche milioncino di euro all'interno, allora tutto questo, standoci dei problemi strutturati e allora si comincia, come si è abituati a fare, a distrarre il cittadino. Non mi avete dato i soldi dell'acqua? Ecco perché io sono andato in difficoltà, perché vi posso assicurare che su questa amministrazione a momenti, e ricordatevi questa però, arriveranno, siete cambiati da pagare, ma sono cambiate grosse da pagare, e costantemente mettendo insieme i loro, quindi non vorrei che fosse buttare le mani avanti e dire, voi non mi avete fatto ingassare i soldi dell'acqua perché io dovrei dire, e sono stati ingassati in questi tre anni questi soldi, dove sono andati a ridire? Possibile che in tre anni maturino 17 milioni? Che avesse che qualcosa ci sia della vecchia amministrazione, non pensi che ci stanno 17 milioni della vecchia amministrazione, perché prima di prendere l'articolo quando io dicevo, sto chiudendo, una partita con le mie acqua di 50 milioni di euro e con 20 milioni di euro, c'è un articolo il giorno dopo, a tutta pagina, del lavoro consigliere regionale Saliocco, che diceva che non era vero, perché poi l'abbiamo io, allora io sono convinto che questa amministrazione che si sta facendo forte sulla solidità del bilancio arriverà il momento in cui ci sarà qualche problema sul bilancio, è un fatto così normale che deve capitare. E non vorrei che la colpa fosse dato a noi quattro bambini che disturbiamo il guidatore, ai cittadini che non pagano, a queste le cose. Avete chiuso un debito di 50, stabilendo di pagarne solo 20, quanti ne avete pagati realmente? 19 qualcosa e qualche lato a questa amministrazione. Quindi sarebbe rimasto poche briciole, quindi la nuova amministrazione quando è arrivata aveva 2-3 milioni di debito, adesso invece dai 2-3 milioni che aveva arrivato a 17, quindi anni in 3 anni, 14 milioni di debito, nonostante il cambiamento dei fissati. Arriviamo a dunque, arriviamo a dunque. Noi dobbiamo arrivare a un punto in cui abbiamo messo un nuovo regolamento che avanza da partire. Grazie. Grazie.